in un campionato come quello della moto due che può essere tranquillamente definito come coppa Kalex dove anche le factory vere come KTM e Fantic e Yamaha sono finte e usano appunto moto non loro quasi sempre Kalex ci sono due team che non sono fabbriche eppure sono comunque delle factory vere e il primo è Bosco Scuro uno no e sta raccogliendo ottimi eh successi e poi c'è forward e ci vuole provare ma la notizia non è questa notizia è che forward come tecnico ha preso Ramon Forcada ma la notizia non è nemmeno questa guardate il video intero con la notizia e il retroscena da mano in faccia ok? Dai! oh ciao da mister helmet dicevamo che all'interno della coppa Kalex ci sono due realtà interessanti una è Bosco Scuro che spero di intervistare presto eh anzi Bosco Scuro rispondemi al telefono e l'altra è quella di forward il cui patron Giovanni Cuzzari abbiamo avuto ospite spesso nelle live di mister helmet in passato l'ho fatto incazzare abbastanza non solo lui ma tutta la sua famiglia però poi abbiamo fatto la pace eh per questo ho pensato che se lo faccio incazzare eh un'altra volta non è non è così grave se poi faccio pace ancora ok? Va bene la notizia è che forward schiererà sei moto due al Chev e quelle le mettiamo da parte e due in moto eh due con Artigas e eh i cui tecnici saranno Vareschi e Sandrucci con Gomez direttore tecnico ok? Eh ma Forcada 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 eh Forcada e questa è quasi quasi la notizia e eh sarà il Technical Director e Crew Chief della Moto E che è come se eh Lando Norris cioè per accompagnarsi a scuola avessi Lando Norris oppure che ne so eh Sainz oppure eh come se Belen eh venissi a farti le 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 pulizie a casa che raccoglie le le cose e tu e tu sbirci così però Forcada eh invece è uno dei tecnici più vincenti in attività quindi è assolutamente nel suo ruolo non è qualcuno che di illustre che sta facendo un qualcosa che non lo riguarda ma la storia qual è la storia è che Forcada e questo è scandaloso eh era tipo in offerta in offerta con la Moto E cioè sembrerebbe e qui mi prendo la responsabilità magari non è vero qualcuno mi smentirà che Dorna funziona così la storia Dorna abbia chiesto a Forward di fare la Moto E perché Pramac non la vuole fare più perché eh RNF è saltata e tra cause non ha intenzione di fare la Moto E e che diciamo così eh abbia chiesto a Forward di farla eh fai la Moto E fai la Moto E però il materiale eh non lo prendere prendilo eh c'è quello di RNF che non è stato pagato e e chi ce l'ha c'è la Forcada e quindi eh avete presente quando ci fu la notizia colpaccio di RNF che ha preso Forcada eccetera eccetera già anni fa beh il colpaccio eh RNF lo ha fatto però quest'anno il colpaccio sembrerebbe averlo preso Forcada che nell'ultima stagione lui e altri non è stato pagato e quindi Forward insieme al materiale della Moto E eh ha preso Forcada si trova il uno dei più grandi tecnici eh della Moto GP del Moto Mondiale in attività eh che spero eh sfrutterà anche per farsi dare dei consigli per la Moto 2 quindi non solo per le otto gare che eh devono fare della Moto E quindi questa volta il colpaccio lo fa Forward che prende Forcada che pare avesse veramente tipo una roba del Moto E non in custodia ma insomma o a casa sua o qualcosa di simile se non ho capito male cioè mi immagino nel frattempo la moglie di Forcada o i figli che ne so che finalmente sono riusciti a liberare il garage cioè un po' il sogno di mia moglie che però nel nostro caso non si avvererà perché mai nessuno verrà a comprare tutte le puttanate che io ho in garage portandosi via anche me se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale attivate le notifiche e scoprite come potete supportare mister Elver con lo shop le donazioni i super stickers i super grazie l'abbonamento e l'accesso con i servizi aggiuntivi per super supporter e sugar daddy questa volta l'ho detto alla fine speravate che non ce lo mettessi e anche questa volta il pippone ve lo siete beccati che ne pensate di questa di questo affarone fatto da Cusari che insieme alla moto e trova come sorpresa Forcada che speriamo utilizzerà in moto due anche per la sua forward che è una delle tre pensate factory solo delle tre factory presenti in moto due fatemi sapere Giovanni Cusari non ti arrabbiare ciao da mister Elver Gianluca F lurawan FING FING Grazie per la visione!